Là fuori c'è una signora di nome Luisa, 50 anni circa, che è riuscita nell'impresa di far arrabbiare il serafico Gianni Morandi. Guardando lo scatto che è diventato in queste ore praticamente virale sul web, è arduo dargli torto. A quanto pare Luisa, fan sfegatata di Morandi, avrebbe seguito il cantante nel bagno dell'autogrill, fotografandolo proprio mentre stava facendo pipì e causando la sua reazione stizzita. Il buon Gianni ha però pensato bene di cavalcare la polemica, secondo alcune fonti infatti la signora Luisa avrebbe lamentato sui social il fatto che Morandi le ha rifiutato il selfie e ha raccontato il fatto dal suo seguitissimo profilo Facebook. Ovviamente il popolo del web si è schierato compatto dalla parte di Gianni Morandi, che nel rispondere ai commenti sotto al post ha regalato alcune delle sue perle. A chi gli diceva che al suo posto avrebbe attaccato al muro la fan invadente, ha risposto che per farla avrebbe dovuto girarsi. A chi gli faceva presente che forse la signora lo ha scambiato per un sosia di Rocco Siffredi, ha risposto che d'ora in avanti girerà con le chiavi in tasca e via di questo passo. Gianni Morandi non perde quindi la sua ironia, anche di fronte ad una palese invasione della privacy. Sarà per questo che su Facebook è seguito da 2 milioni e mezzo di persone e il numero continua ad aumentare.